Si sa che i papi, in quanto uomini, dormono e sognano, ma in virtù del mandato divino loro assegnato non si limitano nell'attività onirica, che so, a volare o, peggio, a essere inseguiti da un orso o da un lupo. No, loro sognano esseri divini che danno indicazioni di vario tipo, come nel caso di Papa Liberio, a cui appare la Madonna, che come viene descritto nei mosaici situati nella loggia delle Benedizioni, opera semiscampata ai rifacimenti settecenteschi, attribuita con qualche dubbio a Filippo Rusuti e allievi tra la fine del 1200 e i primi anni del 1300, da istruzioni su dove debba sorgere una chiesa a lei dedicata. Ma, tenuto conto che i sogni a volte si dimenticano, appare anche al Patrizio Giovanni, che corre dal Papa a raccontare il suo sogno. E proprio per essere sicura sicura che tutti abbiano ben capito, fa nevicare proprio nel luogo prescelto, e dove vediamo Papa Liberio tracciare il perimetro dell'edificio. Siamo nel Cispius, una delle tre propaggini che formano il Colle Esquilino. L'attuale facciata si deve al fiorentino Ferdinando Fuga, incaricato da Papa Benedetto XIV al secolo il bolognese Prospero Lambertini, e realizzata negli anni 40 del 1700. Architetto il Fuga, che nei suoi 25 anni circa di attività a Roma, lascerà solite tracce di uno stile che, pur facendo tesoro dell'ascito dei maestri del barocco, verrà da lui tradotto in una forma più razionale e strutturata. Stretta fra due palazzi gemelli, quella a destra di Flaminio Ponzio da Vigiu, costruito intorno al 1605, e a sinistra sempre di Ferdinando Fuga, costruito circa 130 anni più tardi, il nostro architetto propone una facciata ricca di echi barocchi a due ordini. Quello inferiore presenta cinque aperture. Sei colonne sorreggono il timpano centrale arcuato, dove spicca lo stemma di Papa Benedetto XIV. Mentre sopra vediamo simbolicamente rappresentate le statue della verginità con il leocorno e della umiltà con la pecora, opere di Giovan Battista Maini da Cassano Magnago e del romano Pietro Bracci, con evidente allusione agli attributi mariani. Ai lati estremi, sopra i due timpani laterali triangolari, sono state poste le statue di San Carlo Borromeo e del beato Niccolò Albergati, bolognese come il Papa, e da questi beatificato il 25 settembre 1744. Le opere sono rispettivamente del genoese Francesco Queirolo e del fiorentino Filippo della Valle, mentre ai puttini lavorano il pareggino Michelangelo Schloss e il fiammingo Fanfwehr Schaffelt. Nell'ordine superiore cambia lo stile dei capitelli, da Dorico a Corinzio le aperture si riducono a tre, proteggendo i già citati mosaici. Al centro sotto il timpano lo Spirito Santo, sempre di Filippo della Valle, e subito sopra la Madonna con il bambino del milanese Giuseppe Lironi, con a fianco Santi Pontefici, opere del romano Carlo Monaldi, del bolognese Agostino Corsini, di Carlo Marchionni da Guidonia Montecelio e del romano Bernardino Ludovisi, ma non garantisco l'esatto allineamento opera-scultore dato che le fonti non sono concordi. Il campanile, ricostruito intorno al 1375 circa e completato nella seconda metà del Quattrocento, con la cuspida giunta sotto Papa Giulio II, nei primi anni del Cinquecento, con la soltezza di circa 75 metri, è il più alto di Roma. Per gli amanti delle curiosità diremo che il più piccolo dei campanili si trova invece in Trastevere e adorna la chiesetta di San Benedetto in Piscinula. Di notevole impatto è anche la parte retroistante della facciata situata nella piazza Esquilino, conosciuta anche come Tribuna di Santa Maria, dove campeggia l'obelisco qui sistemato per volere di Papa Sisto V, a fine Cinquecento, che in origine si trovava di fronte al masoleo di Agosto, insieme al suo gemello oggi situato nella piazza del Quirinale. La costruzione delle due cappelle Sistina e Paulina, riferite a Papa Sisto V e Paolo V, e le relative cupole, opere rispettivamente del ticinese Domenico Fontana e del già citato Flaminio Ponzio, e realizzate in momenti diversi tra il finire del Cinquecento e gli inizi del Seicento, obbligarono in qualche modo a dare una continuità stilistica al complesso, e il progetto fu affidato al romano Carlo Reinaldi, nella seconda metà del Seicento da Papa Clemente X, nato Emilio Bonaventura Altieri. Il risultato è caratterizzato dal ritmo delle paraste, che alleggeriscono l'imponente struttura, così come i diversi piani sormontati da una balavustra. Le quattro statue poste in cima all'abside sono attribuite a Francesco Fancelli, stando a quanto afferma Lione Pascoli nelle sue vite, cosa che ha sollevato qualche dubbio, in quanto lo stesso era più noto come scalpellino, attivo nella cerchia del Reinaldi, e rappresentano San Pietro, San Paolo, San Domenico e San Dari. Ritornando verso la parte anteriore della chiesa, troviamo altre cinque statue che adornano la facciata esterna della Cappella Paolina. San Matteo, una doppia veste di evangelista, quello con l'angelo e di apostolo, rispettivamente del toscano Francesco Mocchi e del ticinese o forse di palestrina, Stefano Maderno. Quindi San Luca e il suo simbolo, il toro, e Sante Pafra di Colossi, le cui spoglie riposerebbero nella chiesa. Attribuiti il primo a Giovanni Antonio Paracca di Pietro, detto il Valsoldo o il Valsoldino, per via di un omonimo scultore che lo precedette, e sempre Stefano Maderno il secondo. Anche al Valsoldo è attribuita la statua di San Gerolamo con il leone accovacciato. La piazza, ornata da una fontana disegnata da Carlo Maderno, reca i simboli dell'Aquila e del Drago, gli stemmi araldici di Paolo V, romano, nato Camillo Borghese, gli stessi che si trona alla base della colonna marmorea presa dalla Basilica di Massenzio, eretta nel 1614 circa sempre dal Maderno, con in cima la Madonna col bambino che poggiano sulla falce della luna, opera del francese Guglielmo Bertelot. Entrando nel portico a destra troviamo la strada bronza di Filippo IV di Spagna, omaggiato per il cospicuo lascito alla chiesa, opera del 1692 del romano Girolamo Lucenti, forse la sua ultima opera dato che in quell'anno muore. Che sebbene sia stata fatta su un bolsetto del Bernini, rimane alquanto fredda nella sua eleganza formale, molto lontana secondo me lo spirito berniniano. In alto, il basso rilievo del Patrizio Giovanni che porta un'offerta a Papa Liberio, opera del romano Bernardino Ludovisi del 1743. Gli altri tre basso rilievi legati alle vicende della chiesa sono opera di Pietro Bracci con un San Flavio al concilio, di Giovanni Battista Maini con San Gelasio che brucia i libri eretici e di Papa Martino e le Sarca Olimpio, tentativo fallito di assassinare il Papa all'interno della Basilica per mano di Bisanzio, opera di Giuseppe Lironi e tutte dadabili agli anni 40 del Settecento. Un analogo episodio, un tentativo di sequestro nei confronti di Gregorio VII al secolo il De Brando di Soana fu consumata all'interno della chiesa nel Natale del 1075. La porta centrale è opera del milanese Lodovico Pogliaghi, lo stesso che 40 anni prima aveva ideato il portale del Duomo di Milano, il tema è identico, Episodi della vita di Maria. Incaricato da Papa Pio IX nel 1930, solo nel 1949 porterà a termine l'opera sotto il pontificato di Pio XII, il romano Eugenio Pacelli, che di fatto imprime il suo stemma sul pavimento. Nel 2011 un pazzo ha vandalizzato la porta, colpendola ripetutamente, se ne vedono purtroppo ancora i segni. Le altre due porte di una certa rilevanza sono la Porta Santa, la quarta a Roma montata nel dicembre del 2001 e aperta la prima volta nel giubileo del 2016 da Papa Francesco, opera del bolognese Luigi Enzo Mattei, che l'ha intitolata Gesù risorto appare alla madre, e quella di Mario Otto Fitti da Mozzanica, in provincia di Bergamo, realizzata sotto il papato di Giovanni Paolo II. Da una porta a sinistra si sale sulla loggia delle Benedizioni, dove incontriamo la statua di Paolo V, con il suo draghetto che spunta dietro, opera del 1619 circa del parmense Paolo Sanquirico. Nella loggia troviamo invece gli angeli di Pietro Bracci, che in precedenza facevano parte del baldacchino dell'altare maggiore, che personalmente vaiono più come quegli oggetti che non sapendo dove metterli si sistemano in soffitta. Qui si possono ammirare nella parte alta, parzialmente coperti dalla muratura della loggia, i mosaici, di sicura attribuzione perché Filippo Rusuti li firma, un Cristo benedicente in trono, dentro un clipeo attorniato da angeli, con ai lati visibili San Giacomo, San Paolo e Maria, e nell'altro lato i Santi Andrea, Pietro e Giovanni Battista. Come abbiamo già accennato all'inizio, la diversità di stile del complesso musivo che si articola su due piani, quello superiore che mantiene gli stilemi bizantini, mentre in quello inferiore riccheggia la concezione giottesca nell'articolazione degli spazi e degli sfondi prospettici, ha lasciato dubbiosi alcuni studiosi, sia di un unico artista come autore, sia sui periodi di tempo in cui l'opera fu realizzata. Comunque per la cronaca i committenti furono i Colonna, Cardinali Jacopo e Pietro, come si evince dallo stemma raldico posto accanto alla vetrata, e per completezza di informazione il Vasari nelle sue vite, attribuisce al toscano Gaddo Gaddi la parte inferiore del mosaico, ma pochi gli credono. Dalla loggia si può visitare l'appartamento del padrone di casa, il Cardinale Arciprete, che fa parte del complesso costruito dal già ricordato Flaminio Ponzio nel 1605, e deve ammirare la scala elicoidale, attribuita forse un po' frettolosamente a Gian Lorenzo Bernini, che all'epoca aveva sette anni, a proposito del quale si narra che imbestialito per aver scoperto che il fratello Luigi se la intendeva con la sua amante Costanza Bonarelli, una signora ventenne, moglie di un suo allievo Matteo, lo insegue spada in mano fin dentro la basilica stessa. Il fatto comunque non avrà alcuna conseguenza per il Bernini, che anzi troverà nella chiesa ospitalità per il riposo eterno. Un saluto David Lab e ci sentiamo la prossima giornata. Grazie a tutti.